Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, bentornati a un nuovo appuntamento, l'ultimo con Cosmo Life, l'azienda di Rio Salso che è presente nel nostro territorio della provincia di Piesaro Urbino e che si occupa di tantissimi aspetti legati all'energia vibrazionale. Un saluto per il nostro quarto appuntamento anche questa sera a Tiziana Franca. Buonasera a tutti. E Lidano Casoli. Come vedete abbiamo un ospite in più, il quarto presente fra di noi si chiama Little Mama e poi andremo a conoscerlo meglio perché sarà il protagonista di questa puntata incentrata sull'alimentazione. Lidano, l'alimentazione. Ogni giorno, me lo dicevi prima, introduciamo nel nostro organismo carburante, energia che ci fa compiere tutte quelle che sono le nostre funzioni vitali. Ma quanto è importante quello che introduciamo nel nostro corpo? È importantissimo perché se tu consideri che il cibo dicono che è la prima medicina, perciò vuol dire che è basilare nella salute di una persona, perciò è importante la scelta del cibo, che sia un cibo naturale il più possibile, meno trattamenti chimici e tutto questo che il consumatore oggigiorno cerca. C'è da tenere presente anche una cosa nel cibo, il valore energetico ed è quello che noi con i nostri strumenti facciamo, innalzare la frequenza del cibo. Mi dicevi prima, ma hai utilizzato una metafora straordinaria, quella davvero della necessità, come se noi fossimo delle macchine, e in fondo lo siamo, di immettere energia nel nostro organismo per poter rispondere a tutte le funzioni vitali. Allora, è molto importante, proviamo a pensare questo, il nostro corpo come la nostra casa, uguale. Allora, a casa nostra noi riusciamo ad aspettare tutte le funzioni, frigo, lavatrice, riscaldamento, tutto ciò che ci serve perché c'è qualcuno che ci dà energia, in questo caso l'Enel, un altro fornitore. E diciamo che questo fornitore ci dà energia, ci dà 3 kilowatt o 6 kilowatt, quello che ci serve. Automaticamente io con questa energia che mi dà riesco ad aspettare tutte le funzioni di casa. Ma se mi desse 100 watt, cosa faccio? Vado al minimo. Quando ho acceso 2-3 lampadine, ho chiuso, non posso più fare niente. E il nostro corpo è la stessa cosa, è solo che il nostro corpo non ci dà l'energia all'Enel, ma ce la dà il cibo. E se noi mangiamo un cibo che ci dà quell'energia dei 100 watt che ci dà l'Enel, come fa il nostro corpo? Va, diciamo, non riesce ad aspettare tutte le funzioni al massimo. Perciò le nostre cellule, i nostri organi saranno sempre al minimo. Ci riempiamo lo stomaco col cibo, ci piace il suo sapore, ci piace quello che vuoi, ma in realtà quello che serve a noi serve energia, non ce la dà. E allora lì poi dopo possono esserci insorgenza di problematiche e tutto il resto. Tiziana, l'abbiamo salutato prima, Little Mama, qui alla mia sinistra, fra di noi. Che cos'è esattamente questo apparecchio? Allora, trasforma da quello che leggo l'energia del cibo innalziandone la frequenza. Allora, esattamente fa questo ed è fondamentale, come stava spiegando Lidano. Allora, il cibo che noi mangiamo, possiamo benissimo verificare il cibo che noi con cui ci nutriamo quotidianamente. Noi potremmo verificare proprio col test gizionologico, che è un test muscolare, se questo cibo va bene per il nostro corpo. Cosa succede? Che se questo cibo va bene per il nostro corpo, ci dà la frequenza giusta, perciò noi energeticamente abbiamo anche una sostanza diversa dentro di noi. Ma nel momento in cui succede che non potrebbe andare bene, e la maggior parte succede questo, noi mettendo il cibo all'interno, quello che noi facciamo colazione, ad esempio, in casa abitualmente, che potrebbe essere il biscotto che utilizziamo sempre, poi della qualità migliore, quello che a noi ci piace di più, potremmo fare questo test gizionologico verificando il prima e il dopo. Cosa succede? Che prima magari questo cibo ci riempie lo stomaco, ci sfama, ma non ci dà proprio questo fabbisogno energetico di cui noi abbiamo necessità. Inserendolo all'interno del Little Mama, questa frequenza cambia, diventa più alta e quando noi andiamo a assumere questo cibo, sicuramente la frequenza dentro di noi cambia, perciò come diceva Ridano, esplettiamo un'energia diversa che ci compete, i nostri organi stanno meglio. Perché è fondamentale sapere, a volte si mangiano dei cibi, poi abbiamo lo stomaco che non funziona benissimo, o altre parti vitali del nostro corpo. Si presume infatti che restando all'interno del Big Mama, il cibo abbia questo, ritornare proprio alla natura, quella vera, quella senza inquinamento e senza niente, e di conseguenza il cibo che noi ci va a nutrire ci dà delle sostanze molto più facoltative, il nostro corpo si rigenerà meglio, riusciamo a digerire meglio anche queste cose qua che è fondamentale. Quindi l'Idano in pratica, l'avevi detto prima, è essenziale assumere cibo, fra virgolette, buono, meno trattato chimicamente possibile, ma poi inserendolo in questo apparecchio, in questo uovo, in questo vedete, che peraltro anche da un punto di vista di arredamento è molto decisamente bello, quindi farebbe la sua figura in diverse situazioni di belli appartamenti e di belle case, perché guardate com'è gradevole a vedersi, ecco, in questo caso addirittura ne aumenta l'energia vibrazionale. E come si fa a vedere poi, effettivamente, se questa energia è cambiata? Ecco, questo è bello, perché è un test che tutti possono fare, ma ho visto che molta gente conoscono questo test, è semplicissimo. Decidiamo di mangiare, non so, un frutto, una pasta, qualcosa, cosa facciamo? Mi testo la forza, che è semplicissimo, test muscolare, mi testo la forza, cioè qualcuno mi testa la forza, e poi prendo in mano questo cibo che intendo assumere, che intendo mangiare. In questo caso, se io sono forte, vuol dire che quel cibo, il mio corpo lo vuole, è un cibo che va bene. Se invece io perdo forza, allora ti accorgi che in quel caso il cibo, il corpo non lo vuole, mi riempirà lo stomaco, ma non mi dà quello che mi serve. Allora in questo caso, mettendolo dentro di Tonmama, dopo dieci minuti posso provare a rifare il test e trovo di nuovo tanta forza, mi accorgo che sono diventato forte, e allora il mio corpo mi sta dicendo che adesso quel cibo gli va bene. Torniamo sempre ai 3 kg di prima, per far sì che il mio corpo possa aspettare tutte le funzioni. Perfetto Tiziana, quindi vale il concetto anche che effettivamente tutti noi siamo persone singole, una diversa dall'altra, ognuno di noi ha bisogno di un determinato tipo di cibo, che magari su di me ha dei risultati diversi rispetto a quello che puoi avere su di te, e attraverso questo apparecchio, con l'utilizzo di questo apparecchio, possiamo ulteriormente migliorare quella che possiamo definire una dieta ad persona. Allora assolutamente sì, perché nel momento in cui noi andiamo a nutrirci di questo cibo, che ha questa sostanza molto più a livello energetico valorizzante, noi riusciamo a riportare molto beneficio al nostro corpo, sicuramente ci ritroveremo anche a avere meno pesantezza, e sentirsi meno scarichi, perché la cosa fondamentale è proprio questo. Cioè noi durante la giornata, purtroppo abbiamo una giornata frenetica a volte, e l'energia e la vibrazione che noi riusciamo a portare attraverso il cibo fa sì che noi abbiamo una differenza anche nello stare bene, nel concentramento, perché poi è importante anche il concentramento di una persona, anche per i ragazzi che studiano comunque, o per chi resta molte ore, proprio anche se fermo, però comunque come concentramento proprio, perché tutto questo ci apporta un valore energetico fondamentale, essenziale. Certo, quindi davvero una sorta di grande integratore alimentare che attraverso questo concetto delle onde vibrazionali dà il meglio di se stesso. Lidano, poi ne parlavamo prima, prima di effettuare la registrazione di questa puntata, una cosa che mi ha molto incuriosito, a un certo punto, è chi produce le cucine, potrebbe avere l'idea di utilizzare questo apparecchio per migliorare, proporre davvero qualcosa di nuovo agli utenti. Mi viene da sorridere. Allora, chi produce cucine, producono cucine belle, cioè tutto quello, diciamo l'angolo cottura, fatto in un certo modo, cucinare il cibo col forno microonde, oppure con la piasta in induzione, tutto quello che serve. Ma in realtà il consumatore, oppure chi acquista cucine, è molto attento anche nell'acquisto, diciamo, nella scelta del cibo, perché sai che il cibo, come dicevamo prima, la prima medicina, è di conseguenza dare la possibilità, dare anche perché, torno indietro, diciamo, è molto attento, ma praticamente chi produce cucine sono tutti fermi lì, è come se ci fosse, a mio avviso questo, un muro davanti. Prendete la cucina bella, tutto quel che vuoi, ma migliorare la qualità del cibo è il passo successivo che potrebbero fare, perché io sto attento, mi piace la cucina, voglio il forno che me la cuoce bene, tutto questo, ma migliorare la qualità del cibo, questo è importantissimo, è la salute. E con Little Mama riusciamo a dare un complemento in più a chi produce cucine per valorizzare anche il tipo di cucina, che potrebbe essere anche una linea nuova di cucina, ma soprattutto dare la possibilità di migliorare la qualità del cibo. E quando io vado ad acquistare una cucina e mi offrono la cucina, per dire cucina tradizionale, cucina anche che ti migliora la qualità del cibo, è sicuramente la mia scelta, andrà verso quel lato lì. Giustissimo, è veramente una questione alla quale magari non si dà peso nel momento in cui si pensa alla bellezza estetica della cucina, senza pensare a quello poi cui la cucina in realtà è destinata, dedicata, cioè cucinare al meglio. Tiziana, in conclusione, vediamo che dentro Little Mama ci sono adesso dei frutti, un'arancia, una banana, una ottima bottiglia di vino che magari stapperemo in conclusione di puntata per brindare a questo ciclo di trasmissioni, ma la domanda mia è se io lì dentro ci mettessi anche un pacchetto di patatine, farei bene o male? Comunque dovrei mangiarne sempre poche. Allora, assolutamente, sicuramente, sappiamo da che ci sono dei cibi che danno più fastidio, però sicuramente cambiando l'apporto energetico cambia anche la parte disfunzionale di creare delle situazioni negative. Questo perché questo non significa che le persone devono mangiare male, assolutamente no, ma sicuramente creerebbe meno danno, meno scompenso, perché comunque se l'energia sarà il futuro, come diceva Albert Einstein, che la medicina del futuro sarà l'energia vibrazionale, noi lavoriamo proprio su questa frequenza per poter apportare anche un cambiamento a livello proprio delle persone che possono stare il meglio possibile, perché tutti cerchiamo un benessere, ma per cercare un benessere a 360 gradi è proprio importante riuscire a comprendere che cos'è la frequenza e l'energia che viene proprio anche attraverso il cibo. Perciò può benissimo mettersi lì dentro anche una bottiglia d'acqua, perché sappiamo che l'acqua è vitale per le nostre cellule e qualsiasi cibo che noi vogliamo andare ad assumere lo mettiamo all'interno. È una cosa molto importante che voglio dire, non serve usarlo subito il cibo, ma è fondamentale che rientrando da fare la spesa si inserisca il cibo all'interno e poi può restare in dispensa anche un anno perché non perde la frequenza. Lidano, volevi dire qualcosa? Sì, mi ha fregato la parola. No, nel senso che è importante, come diceva, metto il cibo di dentro poi lo metto in credenza e lì può stare quanto vuole perché una volta che ha preso la frequenza la mantiene. Poi quando lo vado a cuocere avrò questo cibo con una frequenza molto alta. Chiaramente entro i termini della scadenza perché è vero che il Little Mama è eccezionale ma miracoli in questo senso non li fa aumentando le scadenze. Non vogliamo mai andare oltre quello che può essere... Esatto. Noi ci apportiamo sull'energia e su come il cibo può essere nutritivo attraverso questa energia e questa frequenza poi le scadenze bisogna sempre valutarle. Grazie davvero per questo viaggio. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio di quattro settimane all'interno di Cosmolife la vostra azienda la vostra vita quello cui avete dedicato le vostre energie e la vostra passione perché se c'è qualcosa che davvero traspare dalle vostre parole è la passione per quello che fate. Lidano. Grazie. Assolutamente sì. Per noi è fondamentale e lo sentiamo proprio è un'energia una frequenza che ci appartiene questo è importante poterlo far conoscere a chi non ha questa conoscenza perché non tutti sanno che oltre a mangiare un cibo o nutrici o avere un corpo sano è solo attraverso determinate situazioni ma proprio anche attraverso l'energia e la frequenza che è fondamentale. Quindi davvero tanti prodotti da avere tante possibilità di migliorare il proprio benessere considerate che tutti noi siamo figli delle nostre scelte quotidiane di quello che facciamo in ogni momento della nostra vita tante cose non ne escludono altre il bello è sommarle metterle insieme per far sì che davvero tutti possiamo ricavarne qualcosa di buono e magari stare meglio assolutamente è questo che cerchiamo di fare grazie davvero a voi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in queste quattro serate dedicate a Cosmo Life continuate a restare su Rossini TV un saluto a Tiziana e Lidano che sono stati con noi per questi quattro appuntamenti e ci vedremo comunque sempre sul nostro canale 80 di Rossini TV non lasciateci e continuate a seguirci buona serata a tutti e buonasera a voi buonasera buonasera grazie a tutti grazie a tutti